Diminuisce la pressione sugli ospedali abruzzesi sia sotto al 20% per l'occupazione delle terapie intensive e di più invece 30% per i ricoveri in area medica ma con assistenza adeguata. Pian piano insomma, secondo l'assessore Nicoletta Veri, si torna alla normalità e con la presentazione dei progetti dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto si supereranno dei limiti infrastrutturali. Oggi i posti di letto di terapia intensiva sono occupati al limite, almeno del 20%. Abbiamo un aumento, ossia siamo quasi al 30% dell'area medica e quindi però con un'assistenza adeguata scende costantemente la curva dei casi positivi e quindi tutto fa aspettare, fa presagire di poter rientrare nella normalità nel più breve tempo possibile. Per la realizzazione degli ospedali ci saranno 320 milioni di fondi pubblici in totale spalmati nelle tre strutture, ha spiegato Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo. I fondi sono rimasti fermi per troppo tempo, ha detto, mentre gli ospedali invecchiano. Se il cronoprogramma verrà rispettato, entro il 2027 dovrebbero essere realizzati gli ospedali. Entro la fine di questo mandato, ha detto Marsilio, si spera di terminare le gare ed aprire i cantieri. Entro la prossima legislatura regionale l'auspicio è di vedere realizzate e collaudate le tre strutture. Abbiamo finalmente dei progetti veri per gli ospedali di Lanciano, di Vasto e di Avezzano con i quali andare presto a gara. Approviamo oggi l'aggiornamento dell'accordo di programma che porteremo presto al Ministero e rispetto al quale potremo quindi attingere ai fondi del cosiddetto articolo 20 dell'edilizia sanitaria pubblica e entro pochi mesi procedere all'indizione delle gare di appalto per avere ospedali nuovi, altrettanto faremo poi con altri nosocomi. La delibera è la sintesi di un lavoro che parte dal 2020. Nella proposta, nell'accordo di programma, si prevede la realizzazione dell'ospedale di Avezzano con 104 milioni di investimento per 245 posti letto. Per il nuovo ospedale di Lanciano, previsti 97 milioni con 286 posti letto. Per Vasto, 111 milioni per 225 posti letto. Più la centrale operativa del 118 all'Aquila, seguiranno altre delibere per gli ospedali di Teramo e Penne. Erano presenti anche i manager delle rispettive Asle coinvolte, Tommaso Sciail, Ferdinando Romano e alcuni rappresentanti dell'aggiunta regionale. Il sito di Lanciano è già occupato dell'ospedale di fatto, mentre Avezzano e Vasto nasceranno su siti nuovi, due piastre di degenza e il nuovo Dea a Lanciano. In più ci sarà una torre dei servizi per farmacia e altro. Sarà costruita anche la fabbrica del sangue regionale. Su Vasto andrà una struttura nuova e moderna che potrà anche avere un'espansione. Il manager romano per la Asluno ha spiegato che già domani sarà consegnato il progetto tecnico esecutivo per l'ospedale di Avezzano, che è stato progettato tenendo conto della produzione dell'ospedale attuale, del fabbisogno del territorio, della mobilità attiva e passiva delle prestazioni. Ci saranno due blocchi verticali con una piasta su connessione, 60.000 metri quadri adiacenti al vecchio ospedale, 5 piani di cui uno è interrato. Nel piano terra ci saranno tutte le sale operatorie con le degenze chirurgiche. Grazie. 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 Grazie.